Degli spettatori di LucaniaTV.it, un caloroso saluto dal vostro Pino Carlo Magno. Oggi LucaniaTV.it e chi vi parla hanno il piacere di ospitare, seppur per pochi minuti, visto i tanti impegni che ha lui, e quindi siamo fortunati ad averlo, come si dire, bloccato per LucaniaTV, il dottor Nicolò Mannino, fondatore e presidente del Parlamento della Legalità, consulente all'assessorato regionale all'istruzione e formazione nel campo della legalità e cittadinanza attiva, ha partecipato a molte di queste formazioni e di queste consulenze, una per tutte la consulenza della Commissione regionale antimafia, ha conosciuto i grandi della giustizia italiana, da Antonino Caponnetto, presidente onorario di tale Parlamento della Legalità, fino ai grandissimi, basta dire solo i cognomi, Falcone e Borsellino. Lui ha avuto parecchie onorificenze, è stato nominato da Napolitano nel 2010, anche cavaliere della Repubblica Italiana, e poi è andato dal Papa a presentare il logo di Cristallo Nuovo del Parlamento della Legalità, che proprio ieri, se non vado errato, dottore mi corregga, ha festeggiato i vent'anni. E allora la prima domanda è questa per lei, dottor Mannino, come è cambiato il Parlamento della Legalità in vent'anni? E allora intanto vi ringrazio di cuore per l'invito che mi onora e mi dà ancora l'entusiasmo di dare un messaggio di speranza, con quello stesso sguardo che il 18 marzo del 1989 mi vide accanto a Paolo Borsellino. Ripeto, mi ringrazio di averlo citato, Giovanni Falcone non l'ho conosciuto, ma, ripeto, collaboro con Maria Falcone, con la Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Poi ho avuto la gioia, ripeto, il 18 marzo del 1989, di incontrare Paolo, era un sabato, in una conferenza che avevo organizzata a scuola al Marco Polo di Palermo, uno studio superiore per il turismo, dove il tema era una coscienza più forte per una scuola più unita, oltre il fenomeno mafioso, quindi andare oltre. Paolo aveva i suoi appunti, appunti che lasciò a me, e io oggi li custodisco come reliquia. Veda, in una bandiera di un tricolore meraviglioso, firmato dal presidente Mattarella durante uno degli incontri che abbiamo vissuto noi ospiti in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, io tengo due lettere importanti. La prima, quella di San Giovanni Paolo II, la lettera di Giovanni Paolo II, il quale l'8 settembre del 1994, dopo essere venuto da Grigento a lanciare all'anatema contro la mafia, lo dico ai responsabili, verrà una volta il giudizio di Dio. Noi presi da quell'input, come diceva lei, festeggiavamo l'anniversario, perché Monsignor Carmelo Ferraro, alla domanda di un giornalista della RAI, ma quel grido del Papa ha prodotto qualcosa, o sono rimaste parole così campate in aria? Monsignor Carmelo Ferraro disse, sì, sì, ha prodotto la nascita del Parlamento della Legalità Internazionale e guarda, dopo 25 anni siamo tornati con gli studenti in quel luogo dove c'era l'altare che ha accolto Giovanni Paolo II e il Vescovo con un pennarello blu ha scritto su un banner a voi che siete la risposta vivente di San Giovanni Paolo II. E poi ho le dieci schede di Paolo Borsellino, quindi il Parlamento della Legalità Internazionale che ha avuto come primo presidente onorario il giudice Antonino Caponnetto, che, come sapete tutti, ha preso in redini quello che Rocco Chinnici aveva creato, cioè il famoso pull antimafia, nel quale vi era Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nonnonino quando venne, dopo le stragi, abbiamo girato l'Italia in lungo e in largo, ma quanti giovani, quanta gente meravigliosa è venuta vicino a noi? E lui disse, dobbiamo prendere una frase di Paolo. Paolo diceva, per lottare contro ogni forma di illegalità bisogna creare un movimento che possa sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. E allora ecco, Parlamento, cioè parliamoci nella pluralità e nella diversità. Legalità intesa come amore alla vita. L'obiettivo che noi abbiamo è uno, non mi interessa di chi sei figlio, non mi interessa il tuo 740, non mi interessa il tuo ceppo familiare, non mi interessano le tue carte politiche, non mi interessa una cosa sola. Che sai fare di bello quando io e te ci incontriamo e dobbiamo contagiarci, visto che c'è questo maledetto virus, la gioia di vivere, la bellezza di condividere l'esperienza di essere protagonisti di una cultura a coloro. Ed ecco il Parlamento della Legalità nel 2000 ha avuto, primo Presidente onorario Caponnetto, siamo nel 2020, e credetemi, io l'ho fatto nascere anni fa in un comune, San Civirello che è il comune appiccicato a San Giuseppe Iato, pochi chilometri da Corleone, quindi non siamo ad Amsterdam e neanche a Londra. Ci siamo già detti dove siamo, perché qui tu devi pagare il prezzo, non di quello che sei, ma tu paghi il prezzo per dire da quale parte stai. Cosa sei? Puoi avere i titoli, io ho 23 cittadinanza onorarie, ho 28 libri, adesso stiamo andando a curare il nuovo libro, insieme col Vice Presidente del Parlamento della Legalità, Salvatore Sardisco, dove, ci tengo a sottolineare, abbiamo adesso un Presidente onorario che è il generale interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, il generale Lopez. Collabora con noi il generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Nicola Tota. Abbiamo pure con noi Antonio Scaglione, il figlio del procuratore Scaglione ucciso dalla mafia 49 anni fa. attenzione, sono nomi che sono incise nella storia e che si siano messi in campo con il Parlamento della Legalità e perché vedono che da noi, primo, non girano euro. Noi facciamo tutto a costo zero. Quando io sono venuto dalle vostre parti, sono venuto perché qualcuno mi ha pagato un biglietto d'aere e mi ha detto dove dormire. Abbiamo solo la gioia di essere persone positive, solari, entusiasti, senza raccontare vittimismi e angoscia perché ognuno ha i suoi problemi. Dottor Mannino, come sono cambiati i giovani in questi 20 anni? Come li trova tuttora? Sono ancora entusiasti? Sì, sì, sì. Allora, vedi, io quando mi sono messo in gioco, dando vita a questo movimento, pensavo che nasceva in provincia di Palermo, bene che potessi andare, arrivavamo a Palermo. Caro amico mio, invece no. Abbiamo insediato 38 ambasciate del Parlamento della Legalità Internazionale che sono presidi culturali. E dove? Te ne dico solo uno bello. Alla scuola allievi della Polizia di Stato di Peschiera del Garda. Abbiamo insediato l'ambasciata della Resilienza. Abbiamo fatto l'ambasciata del Tricolore presso la base dell'Aeronautica Militare di Trapani Birgi. All'ospedale Borgo Trento di Verona l'ambasciata dell'Amore. Al carcere l'ambasciata dell'Abraccio. Al Malaspina di Palermo abbiamo fatto l'ambasciata della Speranza. All'ospedale Policlinico di Messina l'ambasciata del Dono. Siamo andati al Cairo. 60 persone ospiti dal Cairo. Non abbiamo pagato niente, solo biglietto d'aereo. Per fare l'ambasciata della Fratellanza e del Dialogo. Adesso abbiamo la richiesta di fare un'ambasciata in Kenya e la scorsa settimana mi è arrivata anche l'opportunità di fare un'ambasciata in America. Tutto questo nasce da che cosa? Dal crederci. Vedi, per me è importante la frase di Rosario Livatino. Quando moriremo non ci verrà chiesto se siamo stati credenti. Ci verrà chiesto se siamo stati credibili. E allora aggiungo. In questi 27 anni i ragazzi, grazie a docenti meravigliosi, maestre meravigliose, hanno fatto ricordare Falcone e Borsese. Però vedete, una cosa lo vorrei aggiungere. I ragazzi si vogliono scommettere. Io sono stato recentemente a un'assemblea studentessa prima di marzo, con il problema coronavirus, a San Giovanni Rotondo, dove prossimamente faremo l'ambasciata dell'alba. La cosa bella qual è? I giovani ci credono. I giovani si vogliono mettere in gioco. Perché quando tu gli dici, tu sei meraviglioso, tu sei grande, i giovani vivono dello sguardo di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Rocco Chinnici, di Nini Cassara, di Carlo Alberto dalla Chiesa. Però sai qual è il problema? Dobbiamo avere la gioia, la forza e la coerenza di creare politici diversi, nuovi, preparati, preparati al dialogo, a dare speranza, a servire la politica come vero gesto di carità, come diceva Paolo VI, e scoprire che al titolo di diventare personaggi bisogna scoprire prima la bellezza di essere persone. Purtroppo i segnali che arrivano da un mondo politico danno disperazione, assassinano i sogni dei giovani e noi abbiamo una colpa. Lo dicevo l'altro giorno con degli amici, no? Perché tutti per ora ci dicono, ma voi Parlamento cosa fateci sapere? Io dico semplicemente una cosa, non dobbiamo tradire i giovani, siamo dei traditori, se prima li millantiamo con belle chiacchiere, belle speranze, che bello, che stupendo dai, e poi quando arrivano fuori il mondo della scuola, li diamo in pasto ai lecchini, ai corrotti, a coloro che non hanno dignità e alla loro carta d'identità preferiscono la carta dell'apparire. Abbiamo un debito, li tradiamo, li tradiamo. Dottore, vorrei se possibile un suo commento su una notizia fresca di stamattina. Buona fede ha detto che nessuno può profittare del coronavirus, sa la polemica che è scoppiata in questi giorni, scarcerati per colpa del virus. Che ne pensa lei? Ha fatto bene? Allora, io non so, ripeto, quando lei mi dice questa notizia, io è dalle ore nove, fino a pochi minuti fa, che ho fatto videoconferenza di lettura. Io recentemente ho fatto un articolo, e l'articolo dice proprio così, no? Se sei ancorato a una fede forte, sei anche preso da un messaggio di speranza, non c'è mafiosità che tiene. E io le dico solo questa espressione, lo dico anche ai nostri telespettatori, che sono importanti. ognuno di noi raccoglie quello che semina. E se tu hai seminato veramente col cuore, con gioia e con entusiasmo, e ti sei messo in gioco, perché, attenzione, non puoi stare nel balcone o nella finestra a gridare al lupo, al lupo, al lupo. Devi scendere in campo, devi dire da quale parte stai, perché se non lo fai tu, lo faranno altri, forse in maniera totalmente diversa. Vedi, amico mio, io sono quello che porto gli studenti al giardino della memoria dove è stato sciolto Giuseppe Di Matteo. Faccio venire pulmone di ragazzi e lì c'è una strada piena di fango, nessuno l'ha costruita, nessuno. I ragazzi si sporcano per arrivare lì. E io dico, ragazzi, noi ci sporchiamo a maggio, ma guardate che Giuseppe è stato ucciso nei primi di l'11 di gennaio. Altro, e quei killer carnefici di cosa loro, non è cosa nostra perché noi non ci siamo, lo hanno sciolto nell'acido e dicevano il corpo di Giuseppe si scioglie come burro. E allora chi permette quello che sta avvenendo sotto gli occhi dovrà rendere conto e ragione, ma no il tribunale. Vedi, Don Tonino Bello, di cui io ho fatto il libro Profeticamente Scomodi, dice una frase che è bella, dinnanzi al tribunale degli uomini renderai conto delle tue azioni, ma dinnanzi al tribunale di Dio renderai conto dei tuoi silenzi. E lì non c'è rinvia giudizia, fratello mio, lì si paga. E allora io che ho sentito le urla di Franca Castellese, la mamma di Giuseppe Di Matteo che ornava quel mostro, quel mostro, io che per anni ho portato con me la mamma di Agostino Catalano caposcorta di Borsellino morto nella strage di Via D'Amelio, ho visto, ho udito, quante volte quando mi invitavano dicevo viene pure con me mamma Emilia, gliel'ho preparato un mazzo di fiori e mamma Emilia dicevo questi fiori li porterò sulla tomba di Agostino. Io chiedo al popolo, agli onesti, a chi ha dignità, fatevi sentire il silenzio e dei codardi, fatevi sentire non facendo polemiche, non puntando il dito, ma nel dimostrare che c'è un popolo italiano che vigila, che è attento e sa dire da quale parte sta. noi non siamo gente da comprare con 60 euro, 80 euro, 600 euro, la dignità non si compra, non ha prezzo. Io ricordo nonno Nino Caponnetto diceva aprite le porti alla speranza e guardate i giovani se ne accorgono, vedi fratello, caro amico mio, io faccio lezione, sai quanto mi emoziono con i ragazzi quando ci sentiamo via Skype o Meet, la sta un nuovo canale che c'è, profi, ciao tesoro, come stai? Alunni musulmani, mi mancava la sua voce, no mi mancava la lezione, la voce, e allora tu hai mai provato nella vita il brivido di qualcuno che ti dice mi mancava la tua voce, il tuo coraggio, la tua cosa, quindi la cosa che ti do questa frase che penso neanche i nostri telespettatori, diceva Rita Atria, vuoi distruggere la mafia? distruggi il mafioso che c'è dentro di te, che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza e poi andiamo a fare una bella proposta di legge, io per insegnare ho dovuto laurearmi, ho fatto la specializzazione, l'abilitazione e mi è stato riconosciuto che ero pronto, perché per andare a scendere in politica e fare i ministri ci vuole solo la simpatia del partito e non ci sono titoli di studio, perché? Che titolo di studio ci hanno? Coloro che oggi occupano ministeri, conoscono la lingua francese, inglese, tedesco, hanno titoli di studio? Dov'è la dignità del popolo italiano? E tu permetti che chi ti rappresenta è uno che forse non ha neanche laurea, però a me viene chiesta per insegnare, a te per fare giornalista viene chiesto di avere il tesserino e avrai scritto 30 articoli, io ho 15 anni di giornalismo, perché? Per andare a fare politica ci può andare chiunque, da cicciolina in poi, dobbiamo essere coerenti, coerenti, tu non puoi, devi andare a fare politica, bene, criterio, concetto di magra, titolo di studio, terza, competenza, perché tu non rappresenti tuo padre, tua madre, tua sorella, la tua amante e il tuo fidanzato, tu rappresenti il popolo italiano e il popolo italiano, quello nato da una costituzione, da padri costituzionali, ragazzi, l'altro giorno abbiamo ricordato Aldomoro, dove sono finite queste figure meravigliose, un Aldomoro, Alcide De Gasperi, Dosturso, dove sono finiti oggi, dove sono gli eredi di queste persone meravigliose, di un Berlinguer, non minta di persone che hanno dato tanto, hanno dato voce a questo tricolore e noi ci contentiamo di chi ti urla col piffero magico perché psicologicamente ti hanno giocato, hanno capito cosa vuoi sentirti dire, questo io te lo dico e tu mi applaudi, io vado a prendermi delle poltrone, attenzione, non ce l'ho con nessuno dei politici perché se il popolo li hai eletti democraticamente si merita questi, si merita questi, ma non ti lamentare, li hai voluti. Dottor Marlino, le ultime due domande perché so che purtroppo ci deve lasciare, brevemente, il Parlamento della Realità Internazionale con il problema dell'epidemia e poi le faccio l'ultima domanda. E allora, noi, 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 anche con questo problema dell'epidemia, grazie a un computer, a un tablet, grazie a un WhatsApp, riusciamo a tenere, a mantenere vivo il dialogo con coloro che, con i quali abbiamo preso e già rapporto avviato, il progetto formativo culturale dal titolo Ricercatori dell'Alba che abbiamo dato già due anni fa a Papa Francesco, ci sono le foto pure su Facebook, che abbiamo presentato presso la Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio. Questo progetto sta continuando ad andare avanti, peraltro, annuncio con gioia, la pubblicazione, ecco, nonostante il problema virus, la pubblicazione, siamo quasi alle ultime battute, del nuovo libro che stiamo curando dopo aver fatto il libro Peccatori sì, corrotti mai, che peraltro ci tengo a dire, messi settimane fa, Papa Francesco durante la Messa a Santa Marta ha citato il titolo del nostro libro. Quando il Papa ha detto Peccatori sì, corrotti mai, allora tutti mi hanno chiamato Mico ha detto il titolo del libro. In effetti è vero, gli abbiamo regalato il libro dove a pagina 35 c'è la lettera che Papa Francesco ci ha mandato sul tema della pace. Poi adesso stiamo facendo il libro Insegnami ad amarmi. Perché? Paolo Borsellino ricordando l'amico Giovanni Falcone disse, peraltro fa pochi giorni c'è l'anniversario, noi abbiamo un grande debito da pagare con Giovanni e lo dobbiamo fare gioiosamente perché lui non scappò da Palermo per amore. Allora Insegnami ad amarmi è questo nuovo titolo e sono onorato di una cosa molto bella che il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota ci ha fatto un bellissimo messaggio, il generale della finanza lo stesso, il figlio del procuratore Scaglione, degli psicologi, tre vescovi, firme autorevoli insieme ai messaggi dei ragazzi. Io stamattina su WhatsApp ho ricevuto un messaggio di ragazzi meravigliosi, quindi rispondo alla domanda anche col virus se si lavora si scrive arrivano e-mail arrivano messaggi arrivano foto arrivano pure piccole gocce d'acqua per i contributi per fare il libro perché noi abbiamo detto non vogliamo soldi ecco la forza vent'anni di andare avanti senza un euro questo dice tutto perché io dico senti io soldi non ne voglio ma tu che mi puoi dare dice però io li stampo gli attestati allora tu stampi gli attestati tu fai vedi voi avete la nostra coordinatrice del Parlamento della Legalità della Basilicata Lucia Carlo Magno di Umbria ecco lei cosa fa lei si è inventata i fular con il logo del la gente non ci dà ma fa fa fare 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 e allora è un'esperienza molto bella prossimamente il 5 settembre il 5 settembre noi daremo vita al quarto convegno nazionale del Parlamento della Legalità presenteremo il nuovo libro e racconteremo tante cose meravigliose che stiamo facendo l'ultima domanda dottor Mannino lo ha già citato lei il tra poco ricordo l'anniversario della strage di Capaci una brutta storia due mesi dopo morirà Borsellino che cosa possiamo dire per concludere questa nostra intervista ricordando queste due grandi personalità allora vedi parto con quella frase di Giovanni si muore quando si è soli o quando si viene dimenticati c'è qualche problema quando una persona dice da quale parte sta rischia di rimanere sola dottor Mannino ce la faremo un giorno a sconviggere la mafia una domanda da milioni di euro guarda ti dico alla mafia possiamo dare le ore contate possiamo dargliela basta solo volerlo dove butti fuori le tue primo butti fuori le tue belle qualità rimani un uomo libero con la schiena diritta e il volto in alto non chiedi piaceri e favori a nessuno ti metti in gioco e poi abbi fiducia in quello che disse Giovanni Falcone la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani può avere inizio ma gli devi dare la fine ce la possiamo fare se si vuole si può basta volerlo e come disse un ragazzo di Apricena la legalità è solo l'ossigeno degli onesti grazie grazie dottor Mandino per questa sua importante presenza oggi da noi su Lucania TV buon lavoro a lei e al Parlamento della legalità grazie grazie di cuore un abbraccio a tutti altrettanto e un caro saluto ai nostri degli spettatori di lucania tv.it grazie